Disturbo? Pensavo che l'avesse finito. Prendi un bicchiere anche per te. Grazie, ma sarebbe solo uno spreco, Darlone. Ah, cazzo è vero. Mi stavo scordando che tu sei un robot. Mi dispiace molto che tutti i vostri ingegneri siano morti, dottor. Non lo puoi. Credi che sia stata una perdita di tempo venire qui, eh? La risposta a questa domanda dipende da che cosa speravate di ottenere venendo qui. Quello che speravamo di ottenere era trovare i nostri creatori e fargli delle domande. Prima fra tutte, perché ci hanno creato? Secondo lei perché voi avete creato me? Perché ne siamo stati capaci. Pensi a che enorme delusione proverebbe se il suo creatore le rispondesse così? Sai, è una gran fortuna che tu non possa sentirti geloso. Sì, è fantastico, infatti. Posso farle una domanda? Ma certo. Fino a dove arriverebbe? Per ottenere le risposte per cui è venuto fin qui. Cosa sarebbe disposto a fare? Farei qualsiasi cosa. Allora vale la pena brindare. Non sai che ti perdi, amico. Alla salute. Allora vale la pena. Grazie a tutti.